Anche per questo fine settimana l'Irpinia viene colpita dal maltempo, temperature rigide e neve sono tornate in città e in provincia. Nevicati e abbondanti in particolare su alcuni comuni dell'Alta Irpinia, come mostrano le foto di Michele Frascione scattate a Bisaccia, dove la neve è caduta copiosa imbiancando tutto in pochi minuti. Sono bellissime le immagini postate sulla pagina facebook laceno.net, paesaggi spettacolari, quelli che vediamo attraverso foto e filmati realizzati sul posto. Al lavoro i mezzi spalaneve e spargisale per liberare le strade che conducono all'altopiano dell'aceno. Nevicata abbondante anche sul Monte Partegno, come si vede dalle foto che arrivano dall'osservatorio di Monte Vergine. Una leggera nevicata ha interessato anche la città da questa mattina. Presto nevica a Mercogliano su Monte Ospedaletto. In molti comuni della provincia gli sindaci hanno preferito per questa giornata tenere le scuole chiuse. Nessun disagio particolare per la viabilità, tranne qualche sporadico caso dove mezzi pubblici hanno avuto qualche problema, come nel caso di un bus dell'Airo proveniente da Monte Falcione, che nel comune di Candida è stato costretto a fermarsi a causa di una strada in salita, innevata. Il problema è stato però superato con la pulizia dell'arteria e seppur in ritardo i passeggeri hanno raggiunto la loro destinazione arrivando ad Avellino. Per la giornata di oggi dall'osservatorio di Monte Vergine si prevedono condizioni di cielo molto nuoloso in gran parte della giornata, con possibili precipitazioni più diffuse nelle ore mattutine e nella prima parte del pomeriggio. In seguito le precipitazioni tenderanno gradualmente ad indebolirsi sino a cessare su gran parte del territorio in tarda serata. I fenomeni a tratti potranno manifestarsi sotto forma di neve sin verso i 600 metri. Domani, domenica 6 marzo, ad iniziali condizioni di tempo per lo più soleggiato, seguirà un graduale incremento della copertura nuvolosa. Nel corso della serata potranno manifestarsi locali fenomeni sulle aree più occidentali della provincia, nevosi sino a cute di alta collina.